Posso serenamente dire di essere d'accordo con la Merkel e con Draghi, se non lo fa l'Europa facciamolo noi, senza essere accusato di putinismo o sovranismo. La salute non conosce confini, non conosce ostacoli o logiche geopolitiche. Se c'è un vaccino che funziona e l'Europa ritarda, la Germania come l'Italia, la Francia come l'Austria hanno diritto a procedere per loro conto, quindi sono contento che ieri sera il Presidente Draghi abbia confermato la linea del buonsenso e del pragmatismo.